Ancora incendi a Gela i danni di attività ed esercizi commerciali. Nella notte tra venerdì e sabato infatti i gnoti hanno piccato le fiamme in un chiosco sul lungomare Federico II di Svevia. Distrutte sedie e tavolini lasciati all'esterno della struttura. Sul posto oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti anche i carabinieri della radiomobile. Sembra Gela i poliziotti del locale commissariato in questi giorni nell'ambito dell'attività di prevenzione e repressione dei reati in genere hanno tratto in arresto e in attuazione un provvedimento di esecuzione pene concorrenti emesso dalla procura della Repubblica del Tribunale il 28enne Carmelo Daniele Lizio che dovrà scontare la pena della reclusione in carcere di tre anni, due mesi e 24 giorni per reati contro il patrimonio, resistenze oltraggio pubblico ufficiale, spaccio di sostanze stupefacenti. Denunciato inoltre un 50enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzioni di munizionamento per arma comune da sparo mentre la polizia amministrativa sociale dell'immigrazione ha segnalato un 70enne per la detenzione abusiva di armi antiche e rare.